Ciao e benvenuto da Claudio Padovanni di ComeMeditare.it Oggi vediamo una di quelle storie sagge, parliamo della storia dei due monaci e della pozzanghera. Una volta due monaci stavano facendo un lungo percorso, a un certo punto aveva piovuto tanto e quindi per terra era pieno di pozzanghere, a un certo punto dovevano attraversare una strada che era davvero ricca di acqua, di pozzanghere, di fango e quant'altro e sul ciglio di questa strada doveva attraversare una donna che invece era tutta ben vestita, una bella donna o giovane, era tutta ben vestita e proprio non sapeva come attraversare perché si sarebbe sporcata tutta. Allora uno dei due monaci si è offerto di aiutarla ad attraversare, di fatto l'ha presa in braccio e l'ha posata sull'altra parte della strada. Sono salutati e poi i due monaci hanno proseguito il loro cammino. Per tutto il cammino i due monaci sono stati in silenzio, hanno camminato tanto, quindi è passato tanto tempo e nel frattempo però uno dei due monaci non si raccapezzava tanto dell'accaduto perché una delle regole monacali era che un monaco non doveva avvicinarsi ad una donna, figurati toccarla, quanto di mai vietato nella loro dottrina, nella loro facoltà. E quindi stava lì a pensare, ma insomma il mio amico monaco l'ha preso in braccio, ma è stata una cosa particolare, non si doveva fare, l'ha fatto, ma insomma... E finché arrivati a destinazione, o poco prima di arrivare a destinazione, questo monaco si rivolge a quello che ha preso la donna in braccio e gli dice ma insomma tu hai fatto questa cosa, ma è possibile, è una donna, noi non la dovremmo toccare, questa cosa mi ha sconvolto, insomma, ma com'è fatto? E allora quel monaco si gira verso il precedente e gli dice sì, è vero, io ho preso quella donna e l'ho appoggiata lì, sull'altra parte del marciapiede, e lì è rimasta, e tu invece te la sei portata appresso per tutto il resto del cammino. Ecco, noi spesso magari ci leghiamo a delle regole che hanno un senso magari, ma lo scopo finale è quello di liberarci, quindi anche i monaci hanno queste regole in qualche modo per non sentire un attaccamento, per esempio nei confronti della donna, quindi nei confronti dell'altro sesso, eppure certe volte invece noi ci attacchiamo a dei pensieri e questi pensieri ci fanno pensare a lungo su qualche cosa che è accaduto e non siamo in grado di lasciarlo lì dove è accaduto, ma ce lo trasciniamo appresso. E così non sappiamo più neanche perdonare, non sappiamo più essere liberi di scivolare nell'adesso con leggerezza. E invece piuttosto ci portiamo un carico, uno zainetto molto pesante, pieno di rammarichi, di considerazioni, di pensieri, di attaccamenti e quant'altro. Questo è un po' quello che a me fa pensare questa storia. Il mio invito è quello di scrivere cosa fa pensare a te, che cosa ti suscita questa storia, quali sono le considerazioni che nascono, quindi ti invito a lasciare un commento, se ti è piaciuto la storia lascia un bel like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale o se non l'hai ancora fatto scarica la meditazione guidata che trovi qua. Non mi resta altro che salutarti, che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.